Matteo Messina Denaro si muoveva indisturbato tra le strade di Campobello di Mazzara senza temere di essere scoperto. È quanto accertato dagli investigatori nei mesi successivi alla cattura del boss avvenuta lo scorso 16 gennaio. Le indagini sono volte a scoprire e ricucire tutta la rete di rapporti dell'ex superlatitante per individuare chi lo ha supportato e protetto mentre di fatto si nascondeva alla luce del sole. Come si legge sull'edizione odierna del giornale di Sicilia, Matteo Messina Denaro, morto a causa di un tumore a settembre sarebbe stato infatti ripreso da alcune telecamere piazzate a Campobello di Mazzara mentre era ancora latitante ma gli investigatori non lo avevano riconosciuto. Dopo la sua cattura era stato lo stesso boss a rivelare agli investigatori che sapeva dove si trovavano tutte le telecamere nel comune trapanese dove ha vissuto negli ultimi cinque anni. Tutte le telecamere di Campobello e Castelvetrano le so ho l'aggeggio che le cercava e comunque le riconosco, aveva detto ai magistrati.